Che cos'è questo? Un pallone sgonfi Una sfera Una ruota No! Questa è aria Aria foderata di cuoio E l'aria vola Hai scomplendi? Vola dalle fasce al centro Dalle fasce al centro Lei non è un arbitro? In fuori classe Ci viene al cinema? Non lo so, ci devo pensare Avevi detto che venivi Solo se dicevi Sì, però come siamo in momento? Allora al cinema non ci vengo Ma è come se c'ero venuta Ai! Allora al cinema non ci vengo Grazie a tutti